ciao ragazzi e ciao ragazze benvenuti ad un nuovo video che anche questa volta ho deciso di dedicare all'apertura di tantissime nuove bustine tutte dell'edicola ne ho comprate ancora due delle principesse dell'arcobaleno che se vi ricordate ne avevamo già aperte un paio nel video precedente le adoro sono bellissime una ancora degli orsetti del cuore e anche questi l'avevamo già visti insieme e ne ho comprato un altro perché sono fatti veramente troppo bene questa nuova dei fili mermeds e questa qui non è l'edizione glitter ma come vedete lì sotto è la pearl edition quindi è l'edizione quella perlata una dei my little pony della collezione l'amicizia è magica e infine questo tenero coala di peluche che mi sono innamorata appena l'ho visto perché solo dall'immagine qui davanti ha un fazzino veramente troppo tenero e simpatico le ho comprate comunque tutte in edicola e le ho pagate queste delle principesse dell'arcobaleno e il coalino 2 euro e 99 fili mermeds e my little pony 2 euro e 90 e gli orsetti del cuore invece 3 euro e 50 ora le apriamo perché come sempre sono curiosissima partiamo dalle principesse dell'arcobaleno che sono stupende le ho trovate veramente bellissime e dovevo quindi assolutamente comprarne altre perché sono veramente troppo carine fatte con molta cura davvero graziosissime vi faccio rivedere molto velocemente il giornalino che ci presenta tutta la collezione e ci dice che in totale sono 12 tutte tenerissime e veramente bellissime di cui solo due queste due qui brillano al buio mentre tutte le altre cambiano colore con il sole se vi ricordate l'altra volta avevamo trovato insieme eccola qui sibyl e sono stata molto fortunata perché è un una delle due che brillano al buio quindi più difficili da trovare e l'altra invece feliciti eccola qui bellissima mi piace veramente tantissimo perché sembra un personaggio di un cartone animato giapponese e lei invece cambia colore con il sole insieme poi in ogni bustina ce lo dice di qua c'è anche un bellissimo bracciale vedete con questi cuoricini apriamole sperando di non trovare doppie vediamo che carina con le treccine bellissima abbiamo trovato honey eccola e ci dice che il suo vestito cambia colore al sole qua ci dice che è la principessa della gentilezza la sua passione è fare regali infatti la vediamo qui con tantissimi regali fortunati i suoi amici fiore preferito peonia e l'amica del cuore bianca ecco qui la nostra honey bellissima con queste treccine che sparano un po' ai lati i capelli castani in testa c'è la sua chiara con questo bellissimo fiore gli occhi mi piacciono tantissimo perché sono di un bellissimo violetto rosa e il suo vestito è molto grazioso con questo corpetto le maniche che sembrano dei petali così come la gonna anche lei proprio come felicity con l'abitino tutto su rosa insieme con lei poi c'è questo braccialettino come avevamo visto sul giornalino di colore azzurro con questi cuoricini ho messo qui honey insieme alle altre principesse e passiamo ora alla seconda bustina vediamo no abbiamo trovato un doppione peccato anche se è bellissima felicity ce l'abbiamo di già eccoci quindi purtroppo abbiamo trovato un doppione capita mi dispiace che sono 12 e su due una è doppia comunque il suo vestito cambia colore con il sole è la principessa delle feste la sua passione sono le feste fiore preferito fucsia e l'amica del cuore è lì e il suo braccialettino è invece rosa molto carino passiamo ora alla bustina degli orsetti del cuore che trovo sempre gigantesca e bellissima però con questo meraviglioso arcobaleno che sembra notturno e questi orsacchiotti tenerissimi che sembrano di peluche che sbucano da qui sotto in totale comunque sono 12 eccoli qui insieme l'altra volta avevamo trovato eccolo mattacchiorso bellissimo di colore giallo super simpatico e allegro la sua base a forma di cuore molto carini curati sono veramente fatti benissimo pienissimi di dettagli spero questa volta di trovare amororsa o brontolorso o dormigliorso perché mi piace tantissimo il suo verde acqua sono i miei preferiti apriamola vediamo chi è ma troppo carino abbiamo trovato tenerorso eccolo qui però vi faccio vedere che sul giornalino che c'è all'interno hanno sbagliato perché accanto a tenerorso ha messo la descrizione di amororsa e viceversa noi dobbiamo leggere qui sotto comunque e ci dice che è un orsetto tenerone che ama aiutare gli altri e mostrare i suoi sentimenti tenerorso vorrebbe che i cuori di tutti fossero pieni di amore è un vero tenerone eccolo qua al nostro tenerorso dolcissimo che si abbraccia da solo e ride intanto troppo simpatico di questo color caffè latte bellissimo qui sul dietro ha un cuoricino rosso e anche qui sul pancino contornato di rosa che in parte nasconde però è veramente troppo tenero sembra un cinesino di faccia e ha questa base a forma sempre di cuore veramente fatto molto bene perché si vedono anche tutti i ciuffi di pelo mi piace veramente tantissimo eccoci qui ho messo tenerorso vicino a mattacchiorso super simpatici passiamo ora ai figli mermeds che ha sempre per protagonisti questi cavallini con la coda da sirena e come vi dico tutte le volte io adoro le sirene quindi devo comprare anche questa edizione differente infatti questa è la pearl edition che come vi dicevo all'inizio è l'edizione perlata quindi diversa dalle altre che abbiamo aperto insieme che era la glitter edition infatti qui i nostri cavallini hanno la coda effetto perlata mentre nella tradizione la coda era completamente ricoperta di brillantini vi faccio infatti vedere visto che ce l'ho qui ocean mi sembra che si chiamasse e adriana che sono dell'edizione glitter infatti come potete vedere hanno la coda proprio ricoperta di brillantini e quindi ero molto curiosa di scoprire anche com'era questa edizione che sembra molto carina comunque vediamo subito che la bustina ha la stessa forma quindi a conchiglia bellissima però con questi colori differenti infatti già qui in alto notiamo che è di un bellissimo rosa perla qui sotto ci dice che ogni figli ha un cristallo sulla coroncina però ci dice anche qui sulla parte destra di trovare la perla vera vedete infatti se giriamo sul retro sopriamo tutta la collezione e in totale sono 17 eccoli qui bellissimi tutti sembrerebbe appunto con la coda perlata e l'unica che ha la perla sulla corona è proprio la regina perlia insieme poi al fili mermen c'è la sua carta per identificarla ora l'apriamo vediamo se troviamo proprio la regina vediamo chi è ma che carina è bellissima con questi capelli rosa bellissima anche la coda gialla veramente fatta molto bene è sempre metà velluto e metà plastica vedete che ha la coda madreperlata non so se si vede dalla telecamera ma veramente ha dei riflessi bianco madreperlati appunto stupenda mi piacciono tantissimo questi capelli come se stesse nuotando nell'acqua bellissimi e ha sempre qua una conchiglietta come qui sul fianco ha sempre la sua coroncina con il diamantino lo svaroschino di colore giallo e anche una bella collana dorata gli occhioni poi sono azzurri mi piace veramente tantissimo la carta d'identità qua è differente rispetto alle altre infatti ci dà anche una spiegazione di chi è l'orina che ci dice che è la numero uno e all'orina piace nuotare sulla superficie e starsene sdraiata sulla sua roccia preferita cantando per gli uccellini nel cielo e godendosi il sole il suo canto è magico e lei è in grado di curare gli altri bellissima insieme poi c'è anche questo depliantino che mi sembra che negli altri forse mancava non mi ricordo qua ci presenta tutta la collezione eccole qua infatti la nostra è proprio la prima bella anche quella a fianco nautilus carinissima e qua c'è proprio in grande la regina perlia appunto con la perla passiamo ora a questa bustina dei my little pony e questi non sono recentissimi perché è da un po' sinceramente che li vedo in edicola ma non avevo ancora provato a comprarli mi piace tantissimo la bustina perché è super golosa qui davanti ci dice collezionali tutti e 24 quindi sono tantissimi all'interno c'è un pony e una card da collezione qui sotto ci dice che è appunto la collezione l'amicizia e magica girando dietro però non ci dice nulla e non ci fa vedere qual è la tutta la collezione di questi 24 my little pony l'unica cosa che possiamo vedere è che schiacciando qua un po' premendo in basso riusciamo a vedere il numerino del pony che ci sarà all'interno e questo lo dico per chi li colleziona ma sicuramente lo saprete di già e penso che corrisponda sempre allo stesso personaggio io sinceramente l'ho presa a caso questa bustina quindi non so chi sia il numero 12 vi faccio vedere solo che ne avevo già comprata una eccola qui e avevo trovato apple stars bellissimo traslucido rosa con questi glitter mi piace tantissimo però di una collezione differente era quella se non mi sbaglio con halloween sullo sfondo vediamo che carina non è traslucida questa molto bella abbiamo trovato flippity flop e ha come simbolino su questo dolcetto sembrano delle ciabattine dell'infradito girando la card qua ci spiega un po' chi sono i my little pony dove vivono e ci parla in particolar modo di pinkie pie che poi sarebbe la mia preferita comunque eccola qui è completamente gialla con questi occhioni giganteschi azzurri e mi piacciono tantissimo i riccioli boccoli che ha sia sulla coda sia sulla chioma qui davanti veramente molto carina qui c'è il suo cutie mark che sono appunto queste ciabattine vi faccio però notare il che mi ha un po' deluso che la forma è praticamente identica a quella di apple stars cioè sono due personaggi diversi non hanno nemmeno cambiato lo stampo guardate c'è veramente delusione totale anche i boccoli ciuffi cioè praticamente tutto identico veramente sono rimasta un po' delusa ditemi voi cosa ne pensate passiamo infine all'ultima bustina quella degli animolletti koala della dyneet kids qui sulla bustina ci sono tre tenerissimi koala io infatti l'ho presa proprio perché mi ha colpito il loro faccino disegnato troppo tenere simpatico questo sta facendo anche la nanna questo sembra che sta sbirciando veramente simpaticissimi e qui in alto ci dice i tuoi soffici amici morbido peluche e attaccali dappertutto infatti se giriamo dietro vediamo che il regalo c'è un magazine che nasconde dietro a sé lo vediamo qui sul sul lato vedete il cucciolo di peluche però non riesco a vedere il faccino quindi non so ancora effettivamente com'è e anche come si attaccano io l'ho scelto comunque con il pelo grigio più naturale però visto che ce ne sono tanti altri sbirciando sempre sul fianco della bustina di colori diversi anche fucsia apriamola che sono curiosissima di vedere se è tenero come quello di questi disegni vediamo eccolo qui veramente tenerissimo che simpatico è un po' spelacchiato qua dove ci sono le cuciture comunque dai simpaticissimo già il suo nasone di plastica nero gli occhioni le mega orecchie giganti bianche è tutto di peluche si apre così un po' dentro non è rifinito benissimo ma è carino lo stesso con le sue zampettine di plastica veramente simpatico può muovere anche la testolina così quando lo attacchiamo dove ci interessa possiamo girarlo anche nella posizione che preferiamo è veramente molto tenero il giornalino è proprio dedicato ai koala infatti ci spiega proprio le loro abitudini le caratteristiche è veramente molto interessante e anche degli altri animali australiani qua ci fa vedere la collezione vedete che ci sono anche di differenti colori anche fucsia blu e anche bianco carino bianco non l'ho visto però concludendo mi sono come sempre divertita tantissimo ad aprire le bustine con voi diciamo che questa apertura bustine non è stata proprio fortunata allora partiamo dalle principesse dell'arcobaleno che mi piacciono tantissimo e mi è dispiaciuto trovare un doppione perché sono veramente bellissime quindi speravo di collezionarne di più invece niente c'è capitata appunto feliciti questa però è veramente carinissima poi gli orsetti del cuore mi piacciono come sempre tantissimo è impossibile rimanere delusi da questo prodotto perché è fatto talmente bene e dettagliato e mi ricordano la mia infanzia quindi veramente tenerissimo anche i Filly Mermeds questa edizione perlata è veramente stupenda guardate anche quanto è grande mi piace tantissimo anche lui è super dettagliato quanto riguarda il My Little Pony come vi ho detto prima sono rimasta delusa proprio perché è uguale identico nonostante il personaggio sia diverso in sé lui è anche carino anche i colori, i dettagli però questa cosa mi ha lasciato un po' così amareggiata infine il coalino è troppo simpatico ma è veramente troppo tenero lo metterò sicuramente in cameretta attaccato da qualche parte perché veramente mi piace troppo tanto è simpaticissimo fatemi sapere cosa ne pensate se siete d'accordo con me quale vi è piaciuto di più quale state collezionando aspetto come sempre i vostri commenti che io adoro ci vediamo la prossima volta con un nuovissimo video un bacione e un saluto da Wonderstefy ciao